ok camera lav buongiorno Poschiavo sono Arno Chiameni scrittore di Tavanasa e l'8 di novembre faccio insieme con lo scrittore di Poschiavo Josie Battaglia una presentazione a Poschiavo le libri facciamo come un derby di Tavanasa e Poschiavo ci vediamo lì buona serata come acqua? chiede la zia al tavolo fisso dell'Elvezia guardando l'Alexi ti è andato di volta il cervello? scuote la testa e si infila una Mary Long tra le labbra l'acqua non te la porto se proprio la vuoi arrangiati dove sono i bicchieri lo sai prende un fiammifero dalla scatola sul tavolo e si accende la Mary Long l'Alexi fa per alzarsi il Luis gli stringe l'avambraccio tu resti seduto gli dice qui nessuno beve acqua non siamo ancora caduti così in basso un paio di botte in testa quelle sì che posso dartele se le vuoi e poi magari ti rimetti a ragionare i dies da coiffeur dice Lotto accarezzandosi la barba mi piacciono i libri di Arno Kamenich perché si leggono tutto d'un fiato infatti un romanzo dietro la stazione l'abbiamo letto in due con due segnalibri ce lo rubavamo vicenda racconta storie di vita quotidiana successe in surselva ma che avrebbero benissimo potuto succedere anche da noi ed è un autore molto attento ai vari aspetti della vita mi piacciono i libri di Arno Kamenich sono genuini come una passeggiata in montagna di Arno Kamenich mi piace il modo singolare che ha di esprimersi mi piace Arno Kamenich perché in tre parole riesce a suscitare associazioni di idee ricordi e di assorbire il lettore nel suo mondo leggo volentieri i libri di Arno Kamenich perché ha un linguaggio senza tanti fronzoli diretto e ironico mi interessa Arno Kamenich perché sembra far suoi i consigli di Italo Calvino ossia nei suoi romanzi c'è la leggerezza e la rapidità della scrittura c'è l'esattezza delle descrizioni c'è la visibilità ogni paragrafo sembra una foto o un breve videoclip e poi c'è la moltiplicità i suoi romanzi sono ricchi di storie che creano un mondo il mondo di una realtà grigionese di notte il papà viene in camera nostra e ci sveglia si siede sul bordo del letto e ci spiega cosa è bene e cosa no chi è buono e chi no chi ha la testa a posto e chi è un maledetto lavativo e perché è uno così bisognerebbe investirlo con la macchina passa da un letto all'altro è tutto contento e ride e poi piange di nuovo gesticola parla in rima e canta bestegna scoreggia e dice oppà il pesce che è in bocca gli nuota tra le parole eccoci davanti alla casa console di Boschiavo dove sabato sera 8 novembre alle 5 e mezza ci sarà Arno Kamenich con noi vi aspettiamo con la Progrigione Italiana ma tu lo conosci Arno Kamenich? ah è di meno Armando Kamenich come lo conosci quello Arno Kamenich eh allora per gli amici Armando Armando bravo eh per Napoli tutti lo conosciam Armando Kamenich è di meno in mezzo ai quartieri le sue poesie va bene grazie a tutti